Buonasera. Buonasera a tutte e tutti e diamo inizio a questo incontro. Per me sono Giorgio Bigatti, direttore di Fondazione Ise, che è un grande piacere e se non temessi di essere retorico direi un onore aprire l'incontro con Donald Sassoon questa sera, uno dei maggiori storici europei. Questa iniziativa si inserisce in quelle che abbiamo organizzato in collaborazione con la Casa della Cultura di Milano, in occasione della ricorrenza dei cento anni della fondazione di un partito, un partito comunista italiano, che oggi non esiste più, ma che tanto peso ha avuto nella storia italiana del Novecento. L'incontro di stasera si inserisce in queste iniziative ma se ne distingue per il respiro che abbiamo voluto conferire a questo incontro chiedendo a Donald Sassoon e a Ilaria Favretto, che con lui dialogherà e che ringrazio per essere presente con noi stasera, abbiamo chiesto di inserire quelle vicende nel quadro più ampio della storia del socialismo italiano ed europeo. Credo che uno studioso come Donald Sassoon, che alle vicende del socialismo e dello stesso Partito Comunista Italiano ha dedicato diversi volumi, possa offrirci spunti di riflessioni importanti su quella storia, parte di un più ampio processo di sviluppo politico, culturale, europeo e mondiale. E credo possa anche aiutarci a capire, andando, come dire, oltre in qualche misura la storia, ma guardando al presente, credo che possa aiutarci a capire quale sia oggi lo spazio per partiti che al socialismo in forme diverse si rifanno in Europa, che sembrano a dare molto più credito alle forze che a quella storia si richiamano, come da ultimo mostrano i risultati delle elezioni di Madrid municipali, oppure in parte delle stesse risultati inglesi che hanno confermato una crescente difficoltà del partito laborista, che della grande famiglia con tutte le diversità del socialismo europeo fanno parte proprio nelle aree di storico radicamento. Ma di questo vedremo poi se e come si parlerà. Prima di cedere la parola per un saluto altrettanto rapido a Ferruccio Capelli. Presento brevemente, anche se forse non ce n'è bisogno, i due interlocutori di stasera e poi dico due osservazioni di servizio su come abbiamo impostato questo incontro. Ilaria Favretto è professoressa di storia europea contemporanea alla Kingston University di Londra. Ha studiato, si è formata a Milano e poi ha trovato un suo percorso professionale in Inghilterra. Ha pubblicato diversi volumi e numerosi articoli in importante rivista internazionale sulla storia della sinistra inglese italiana, sui movimenti di protesta in Europa dopo il 1945 e attualmente sta lavorando a un volume che è una storia culturale dei conflitti industriali nell'Italia del Novecento. Sono stato estremamente sintetico rispetto a un percorso professionale e scientifico molto più articolato, ma non voglio rubare tempo. Lo stesso farò con Donald Sassoun, di cui ricordo solo i volumi tradotti in italiano, pensando che molte delle persone, degli insegnanti che ci seguono, possono essere indotti ad andare a ritrovare questi volumi. Donald Sassoun è professore merito di storia europea comparata presso il Queen Mary College di Londra dopo aver insegnato in diverse prestigiose università. Tra le altre cose mi fa piacere ricordare che è stato visiting professor anche in Italia all'Università di Padova e credo anche di Trento. È autore di molti volumi, di cui qui richiamo esclusivamente, Togliatti e la via italiana al socialismo, pubblicato da Inaudi nel 1980, Cent'anni di socialismo nel 1997 da editori riniti. Più recentemente la cultura degli europei dal 1800 a oggi, Rizzoli 2008, una grande opera di oltre 1500 pagine e infine sintomi morbosi nella nostra storia di ieri, i segnali della crisi di oggi. Il sottotitolo che mi pare che in qualche modo ci possa guidare almeno per una parte nella conversazione di oggi. La conversazione è un dialogo a due, Ilaria Favretto dialoga appunto con Londra Sassoun e grossomodo il loro dialogo si proterrà senza interruzioni fino alle 18 e 30, quindi grossomodo insomma un po' meno, 45 minuti, 50 minuti. Dopodiché si apre lo spazio del dibattito con interventi diretti da parte delle persone presenti nella room o interventi mediati da parte delle persone che sono nella room ma semplicemente come spettatori che potranno fare le domande utilizzando la chat e poi verranno riportate da me ai nostri due interlocutori, così come va in streaming su Facebook l'incontro, ci potranno essere anche domande da quel lato. Prego tutti coloro i quali se ritengono e ovviamente farebbe piacere a tutti noi che lo facessero, intervengono, interverranno, di farlo tenendo conto dei tempi e soprattutto di fare domande e non degli interventi come spesso succede che presi dalla foga quella che nasce come domanda diventa un intervento costringendo a quel punto nello sgradevole compito di interrompere chi in qualche misura condurrà questo incontro che è appunto Ilaria Favretto che anche di questo compito aggiuntivo ringrazio. Buon lavoro a tutti noi, cedo rapidissimamente, cedo la parola per un rapido saluto a Ferruccio Capelli, direttore della Casa della Cultura. Buonasera, buonasera a tutti, ma per un saluto davvero rapido e per dire una cosa banalissima che, però tutti sapete, fra Ise che è Casa della Cultura c'è una collaborazione intense, il centenario del PC è stata solo un'occasione in più per intensificarla, peraltro stiamo cercando di utilizzarla nel modo migliore possibile, abbiamo un programma intenso in parte svolto, in parte in fase di svolgimento e non potevamo non affrontare un grande nodo come quello di questa sera. In realtà a suo tempo è stato un grande nodo politico il rapporto fra il PC e il socialismo europeo, un nodo che ci ha appassionato a suo tempo e molto coinvolto nella riflessione. Oggi è diventato un nodo storiografico e per discutere abbiamo con noi due storici che francamente sono perfetti per questa discussione. Ilaria Favretto, che io francamente voglio salutare chiaramente, sono vent'anni che non sono certo di questa cosa, vent'anni che non ci incrociamo da quando ha lasciato l'Italia per andare a Londra e con grandissimo piacere che oggi noi abbiamo l'occasione di riprendere con il dialogo assieme e poi Donald Sassone che per parire unanime è l'esperto massimo di questo. Ma se qualcuno avessi chiesto con chi discutere del rapporto fra il PC e il socialismo europeo, io in qualunque momento avrei detto che abbiamo discututo assolutamente con Donald Sassone, che è qui con noi, quindi meglio di così non possiamo avere. Quindi è una discussione francamente centrata al giusto livello su un grande nodo storiografico. Bene, buon lavoro a tutti e grazie ancora per essere qui con noi. Grazie per la presentazione e ovviamente ringrazio Ise, che è la Casa della Cultura, per l'invito e per l'organizzazione di questo incontro che offre un'occasione preziosa per riflettere, discutere su culture politiche e forze partite che, come è stato detto, hanno giocato un ruolo fondamentale nella storia italiana ed europea del ventesimo secolo. È un piacere rivedere Ferruccio Cabelli e aver modo di conoscere, sebbene nella forma mediata e virtuale di Zoom, Giorgio Bigatti. Saluto anche i tanti colleghi presenti, colleghi che interverranno più avanti, che hanno lavorato su diversi aspetti della storia del Partito Comunista e del Partito Socialista e che la cui partecipazione a questo incontro non potrà che arricchirlo, arricchirla la nostra conversazione. Io ovviamente saluto Donald Sassoon, che ha gentilmente accettato di essere qui con noi questa sera e conversare prima con me e poi con i colleghi e con il pubblico che ci sta seguendo su temi che sono stati al centro del suo lavoro storico e su cui Donald ha pubblicato, come è stato detto, lavori molto importanti. Scusate, aggiunto perché non riesco a vedere. Ecco, ti vedo adesso Donald, prima non riuscivo a vederti. Io ti vedo. Bene, perfetto, eccoci. Donald, questo incontro prende spunto dall'anniversario della nascita del Partito Comunista, quindi mi sembra opportuno e giusto partire da lì. Nel 1921 nasce il Partito Comunista italiano formalizzando di fatto una rottura che si era creata con la rivoluzione russa e la nascita del Cominton all'interno del mondo socialista. Ora, gli anni che il nuovo Partito Comunista italiano ha davanti a sé prima che i propri leader siano costretti alla clandestinità dal fascismo, in realtà non sono molti. Ma in quei pochi anni di fatto non riesce a scalfire l'egemonia socialista all'interno della sinistra italiana. L'elezione del 21 il Partito Comunista ottiene poco più del 4% e i socialisti si mantengono intorno al 27%. Tutto ovviamente cambia dopo il 45, dopo la fine della guerra. Diversamente da altri partiti comunisti e partiti omologhi, che di fatto rimarranno una forza minoritaria all'interno della sinistra dei propri paesi, il Partito Comunista cresce elettoralmente, arriva a superare il Partito Socialista italiano e diventando il più grande partito comunista occidentale. Quindi forse inizierei da qua a spiegare come succede, come si spiega questa traiettoria e anche questa anomalia, un percorso così diverso da altri partiti comunisti al di fuori dell'Italia. Sì, inizierei, oltre a ringraziare come d'uso ISEC e la Casa della Cultura di Milano per avermi invitato, inizierei con insistere sul fatto che quando nasce il Partito Comunista italiano naturalmente nasce quando nasce il comunismo in Europa, cioè quando nascono anche gli altri partiti. Dunque non è un fatto, diciamo così, specificatamente italiano. E' un fatto europeo quasi mondiale, perché nasce anche per esempio il Partito Comunista cinese. Dunque siamo in una situazione che è determinata quasi esclusivamente dal fatto della rivoluzione d'ottobre. E la rivoluzione d'ottobre è determinata principalmente dalla Prima Guerra Mondiale. Dunque il comunismo in Italia, come altrove, nasce non perché c'è una lotta di classe, non perché il capitalismo si è evoluto fino a un certo livello, non perché ci sono molti operai e meno contadini, eccetera, eccetera, ma per motivi che hanno ben poco a che fare con la visione classica che i socialisti avevano della crescita che loro pensavano inevitabile della classe operai. Se prendiamo una piccola statistica, prima della Prima Guerra Mondiale il partito socialista più forte d'Europa, del mondo, era il Partito Socialdemocratico tedesco, che aveva 4 milioni di voti ed era il primo partito della Germania. Beh, in Germania in quel momento c'erano 8 milioni di operai, il che vuol dire che metà degli operai tedeschi o non votavano o votavano per altre forze politiche, per altri partiti. Tra i partiti socialisti importanti c'era quello che aveva una percentuale di voti abbastanza alta, c'era quello finlandese, dove in realtà gli operai in Finlandia ce n'erano pochissimi, mentre la Gran Bretagna, che era il paese che ancora più o meno era forse se non il più industrializzato, perché ormai era stato sorpassato dalla Germania, era comunque un paese chiaramente capitalista, nel 1900 non c'era un partito socialista. Dunque non c'è un connubio, diciamo, tra la forza della classe operaia, il numero della classe operaia e la nascita dei socialisti prima e dei comunisti dopo. Partiamo dunque dal 1920. Voglio dirlo in modo brutale. I comunisti fuori dall'Unione Sovietica, dopo il 1921, non contano quasi nulla per la storia europea. Le eccezioni potrebbero essere la Germania, dove comunque sono sempre minoritari rispetto ai socialdemocratici e naturalmente in Francia, dove solo per gli undici mesi del fronte popolare negli anni 30 riescono non neanche a far parte del governo, ma comunque a sostenere il governo dei fronti popolari. è di una certa forza, forse anche in Spagna, anche lì per via della guerra civile. Dunque, prima della seconda guerra mondiale, la storia d'Europa, se fosse finita nel 45, o se noi fossimo nel 40, o se noi fossimo storici nel 40, potremmo dire che il comunismo è fallito in tutto il mondo, eccetto nell'Unione Sovietica, in Mongolia, che è il secondo paese socialista nel mondo, e in Cina. Dunque, nascono per via della prima guerra mondiale, ma si sviluppano per via della seconda guerra mondiale, perché alla fine della seconda guerra mondiale i risultati elettorali dei partiti comunisti in tutta l'Europa occidentale, non conto ovviamente la parte dell'Europa liberata, si fa per dire, dall'armata rossa, ma se parliamo esclusivamente dell'Europa occidentale, i comunisti sono più forti nel 45 che in qualsiasi periodo prima del 45, o qualsiasi periodo per i 30 anni successivi al 45, con l'eccezione del PC. Per esempio, il Partito Comunista Inglese, che non conta assolutamente nulla, riesce a avere due seggi al Parlamento nella Camera dei Comuni nel 1945. Dunque, l'anomalia del PC è quella non solo di essere forte dopo la guerra, ma di diventare molto presto, non immediatamente, molto presto il primo partito della sinistra in Italia e mantiene questo record fino alla sua fine, cioè fino agli anni 90, con l'unico possibile rivale, il Partito Comunista Francese. Ma e come spieghi, Donald, questo successo del PC italiano, questa capacità di superare i socialisti e imporsi, come dici tu, come primo partito della sinistra? Cosa aiuta a togliarti? L'unico modo è quello di fare un esame comparato dall'unico altro partito che avrebbe potuto fare meglio, cioè del Partito Comunista Francese. e lì dobbiamo insistere probabilmente sulla forza e l'importanza della resistenza, sia in Francia che in Italia. C'è un'altra resistenza molto importante in Jugoslavia che di fatti ha successo nel senso che i comunisti prendono il potere, ma se no è una cosa franco-italiana. Allora, perché il PC ha fatto molto meglio, per dire in termini agonistici, del Partito Comunista Francese. Come al solito, non c'è mai una spiegazione, ce ne sono tante. Una è senza dubbio il fatto che l'intelligenza dei dirigenti del Partito Comunista e soprattutto di Palmiro Togliati era quello di fare una cosa che viene raramente fatta nella storia dei partiti, cioè fare un'inversione, cioè cambiare rotta. di dire nel 1945 che siamo stati un partito centralizzato, leninista, forte, che era quello ideale per la resistenza, bisognava nascondersi, bisognava la segretezza, bisognava la centralizzazione. Dobbiamo adesso cambiare completamente e diventare quello che lui ha chiamato il partito nuovo, aprirsi il massimo possibile. E l'ha fatto nel momento buono, dove la gente pensava che questo era il partito del futuro, che era il partito in cui avrebbe difeso gli interessi delle varie masse. In secondo luogo, c'è il fatto che bisogna sempre, quando un partito ha fortuna, bisogna anche pensare all'avversario. Se uno ha un avversario molto bravo e molto forte, è difficile che riesca ad andare avanti molto. Dunque, quali erano gli avversari dei comunisti? Si potrebbe dire senza dubbio che la democrazia cristiana era di gran lungo più intelligente dei vari partiti che erano al potere in Francia. e aveva anche l'appoggio della Chiesa, che all'epoca naturalmente era senza dubbio centrale. Dunque, aveva anche un avversario molto forte. I francesi non avevano un avversario così forte, però avevano una tradizione repubblicana molto forte, che era divisa tra i vari partiti, perché anche i golisti erano non più biechi reazionari cattolici, ma erano diventati dei repubblicani conservatori, se vogliamo, ma pur sempre dei repubblicani. Dunque, la dimensione nazional-popolare dei partiti francesi era di gran lunga più elevata di quello del partito della democrazia cristiana, che veniva visto da molti, e non ingiustamente, come il partito della Chiesa. Dunque, un avversario relativamente, che si poteva non battere, certo, ma comunque che si poteva sfidare in un certo modo. E poi, finalmente, il fatto che, molto presto, nelle varie regioni d'Italia, il Partito Comunista seppe imporsi sul Partito Socialista. Il Partito Socialista non fu in grado di fare un'operazione neanche più tardi, neanche quando Mitterrand riuscì a sfidare e vincere la battaglia interna contro il Partito Comunista francese. I socialisti italiani non furono mai capaci di fare altrettanto. Si potrebbe esaminare altri piccoli dettagli, ma secondo me queste sono in grandi linee le condizioni per lo sviluppo del Partito Italiano. C'è chi aggiungerebbe il fatto che il PC era riuscito a distanziarsi un po' meglio del Partito Comunista francese e dell'Unione Sovietica, ma non mi sembra che questo era necessariamente un vantaggio fino al dopo il 56, cioè che l'alleanza con l'Unione Sovietica non faceva male alla sinistra comunista sia in Francia che in Italia. E sono completamente d'accordo con te, perché in genere spesso quello che si dice è che anche quello che ha avvantaggiato il Partito Comunista rispetto al Partito Socialista è il mito di Stalin e chiaramente questa associazione stretta fra il Partito Comunista e Stalin che aveva giocato un ruolo fondamentale nella vittoria sul nazi. Senza dubbio, la gente non se lo ricorda adesso, non lo vuole ricordare, ma per la maggioranza della popolazione dell'Europa occidentale era l'Unione Sovietica che aveva vinto la guerra, non gli anglo-americani. Poi 3.000 film, eccetera, eccetera, hanno forse cambiato questa opinione. Sondaggi negli Stati Uniti rivelano che il 30-40% degli intervistati non solo non sapevano che gli Stati Uniti erano alleati dell'Unione Sovietica durante la Seconda Guerra Mondiale, ma pensavano che al contrario la Seconda Guerra Mondiale era stata combattuta dagli Stati Uniti contro l'Unione Sovietica. Cioè l'idea che eravamo with the communists era assolutamente folle, per una importante minoranza dell'opinione pubblica americana. Cioè il mito di Stalin, senza dubbio, funzionava per la sinistra, come il mito di De Gaulle andava bene per il centrodestra francese, come il mito di Churchill andava bene per i conservatori inglesi. Occorrono eroi, diceva un poeta libanese, beato il paese che non ha bisogno di eroi. D'accordo, ma quasi tutti hanno bisogno di un simbolo. Sì, e sicuramente i partiti che riescono a identificarsi più da vicino e più facilmente con quel simbolo ne traggono un vantaggio elettorale, così come è successo appunto in Italia fra i due partiti della sinistra, fra PC e Partito Socialista. Quello che è interessante è che, sempre pensando alla crescita del Partito Comunista negli anni dopo la fine della guerra, che spesso questa crescita e questo successo elettorale veniva rappresentato dalla propaganda anticomunista come frutto di ignoranza, di ingenuità. Appunto pensiamo a Guareschi, ai Trinariciuti, a questa rappresentazione del militante comunista quasi come primitivo e selvaggio. Di recente leggevo di queste rappresentazioni di D. Vittorio, del leader della CGL con l'anello al naso. Ora sappiamo, grazie a decenni di storia culturale e sociale, che in realtà il rapporto, che la storia è ben più complessa, che il rapporto tra militanti e iscritti del PC era decisamente più complesso. Il successo che il PC ha fra le masse e la sua crescita di partito come partito di massa in realtà non è solo frutto di ignoranza e ingenuità. C'è un rapporto molto stretto, non solo fra mondo operaio e Partito Comunista italiano, ma anche fra altri strati sociali. Mi chiedevo se volessi parlarci un po' di quello che secondo te del successo, di quello che è il rapporto del Partito Comunista con gli italiani, non solo con il mondo operaio, ma per esempio anche con i ceti medi. Come si spiega che un imprenditore, un insegnante, un impiegato, come si spiega l'appeal del Partito Comunista fra questi strati sociali? Certo, assistiamo un fenomeno abbastanza originale, nel senso che, mentre è chiaro che la stragrande maggioranza degli imprenditori non erano filocomunisti, ma che probabilmente la proporzione degli imprenditori che non erano anticomunisti in Italia era maggiore della proporzione degli imprenditori che erano anti-labor in Inghilterra. Pensiamo che il labor non mangia bambini la mattina, questo non l'ha detto nessuno. Come mai? Una parte si spiega con la politica nelle varie regioni, soprattutto in Emilia-Romagna, in un certo senso anche in Toscana. E cioè il fatto che il PC per molti in Emilia-Romagna e nell'Italia centrale rappresentava anche una buona amministrazione. E per molti imprenditori questo è veramente l'unica cosa che conta. In secondo luogo, abbiamo anche un rapporto privilegiato, o comunque un rapporto con il mondo intellettuale. Ora, tutti i partiti hanno sempre cercato di avere nelle loro file anche intellettuali, ma mentre è difficile pensare a molti intellettuali britannici che erano organicamente parte del Labour Party, ce ne sono stati, ma erano pochi, anche se probabilmente la maggioranza degli intellettuali inglesi più probabilmente votavano per il Labour Party che per un altro partito. Il Partito Comunista Francese aveva degli intellettuali a suo seguito, ma i grandi intellettuali francesi stavano bene attenti a non iscriversi al Partito Comunista. In Italia, invece, abbiamo un'operazione che è molto particolare, cioè quella di avere intellettuali, metterli nel Comitato Centrale, avere delle riviste come Rinascita, che non c'era l'equivalente in Francia, per non parlare naturalmente della Gran Bretagna, avere dei giornali tipo critica marxista, studi storici, eccetera, che erano obiettivamente interessanti per un intellettuale, cioè non erano cose semplicemente di propaganda, quanto è fantastico l'Unione Sovietica, tutti stanno bene lì, eccetera. erano discussioni vere su questioni di filosofia, di sociologia, eccetera. E dunque questi intellettuali in Italia stavano relativamente comodi nel Partito Comunista, mentre non stavano così nel Partito Comunista Francese. Dunque questo è un altro elemento che ha permesso al PC di stabilirsi verso fasce non insignificanti del ceto medio. Bisogna naturalmente aggiungere che c'erano limiti a questa espansione. Il sistema elettorale italiano era tale per il quale avere la maggioranza assoluta era impossibile, dunque bisognava avere delle alleanze. L'unica alleanza possibile per il PC era quella con i socialisti, che ha funzionato più o meno fino al centro-sinistra e poi il tentativo di fare invece l'alleanza con la democrazia cristiana. Nell'altro paese dove c'era un Partito Comunista, il Partito Comunista Francese non se lo sognava neanche di entrare in un'alleanza con un altro partito se non fosse quello socialista francese. È un'alleanza che ha portato alla sua fine, perché ha portato la vittoria nel 1981 di Mitterrand e che è l'inizio della fine del Partito Comunista Francese. Sì, però sicuramente come dicevi tu prima è importante ricordare perché forse non in Italia ma all'estero o forse ho una visione un po' distorta perché il Partito Laborista è stato perlomeno nei suoi primi anni di vita un partito operaio a partire dai suoi quadri. Invece è importante ricordarsi che il Partito Comunista e il Partito Socialista italiano sono stati partiti che hanno sicuramente avuto consenso e hanno attratto consenso fra i ceti medi. Gli stessi quadri e gli scritti e i tesserati provenivano in buona parte dal ceto medio. Leggevo prima dei dati che nel 1967 gli scritti del PC erano il 40% operaio, 10% braccianti e il resto chiaramente pescavano da altri strati sociali. Ma è molto. Vuol dire che la metà degli scritti non erano operai. Certo, no, no, infatti esattamente questo che spesso soprattutto non so, visto da questo paese un paese appunto che ha avuto un partito laborista che è stato un partito per anni non ovviamente negli ultimi 30 anni ma prima con una presenza operaia molto forte a livello anche di quadri spesso è qualcosa che è importante ricordare e rimarcare. Collegandomi a quello che dicevi Donald sugli intellettuali è ovviamente una considerazione molto importante e è anche importante ricordare che questo seguito, rispetto e stima nel mondo della cultura intellettuale non si ferma all'Italia ma va oltre l'Italia. Il Partito Comunista è un partito temuto e detestato dai governi e chiunque abbia lavorato negli archivi di paesi europei si è sicuramente imbattuto in lunghi resoconti delle ambasciate straniera a Roma che raccontavano del Partito Comunista la sua crescita con terrore e anche prospettando scenari nefasti nel caso il Partito Comunista fosse giunto alle leve di potere però sempre rimanendo in un quadro internazionale questo non corrispondeva a quello che era l'immagine del Partito Comunista fra il mondo intellettuale e il mondo della cultura penso alla circolazione che hanno avuto per esempio gli scritti di Gramsci alla notorietà e alla visibilità di leader e anche stime rispetto che hanno avuto leader come Berlinguer e il mondo britannico è un buon esempio un mondo che tu conosci particolarmente bene quindi mi chiedevo se potessi raccontare al nostro pubblico quando e come hanno iniziato a girare gli scritti di Gramsci che uso se ne è stato fatto e soprattutto poi legato a questo anche che immagine si aveva all'estero del Partito Comunista Italiano e dell'altra parte della sinistra italiana quindi anche del rapporto che il Partito Comunista Italiano aveva con il socialismo diciamo che la cultura intellettuale inglese fino a circa il 1970 si rivolgeva piuttosto alla Francia che all'Italia o anche alla Germania e che la crescita dell'interesse per il Partito Comunista Italiano in Gran Bretagna è qualcosa che succede dopo il 1970 quando anche la sinistra marxista inglese comincia a tradurre i testi di Gramsci insomma Gramsci è importante perché è uno dei pochissimi teorici che si può studiare e leggere senza dover cercare di giustificare la sua vicinanza all'Unione Sovietica cioè oltre a Gramsci abbiamo quelli che comunisti veramente non sono la scuola di Francoforte eccetera oppure abbiamo quelli tipo Lenin Trotsky eccetera che invece comunisti sono con Gramsci abbiamo qualcosa di diverso Eric Hobsbawm una volta mi aveva detto la grande fortuna di Gramsci è quello di essere finito in carcere perché se non fosse stato in carcere ma fosse stato in esilio a Mosca avrebbe dovuto benedire Stalin ogni sei mesi se no finiva nel Gulag invece per sua fortuna ma dobbiamo dire per la fortuna dei suoi scritti piuttosto e dello studio di Gramsci è finito in carcere ed è morto fuori dal carcere ma comunque è morto già nel nel trenta nel trentasette questo è un passo importante voglio fare una cosa anedotica ero la mia moglie di allora aveva cominciato americana aveva cominciato un PhD su Gramsci alla London School of Economics e quando andavamo a cena eccetera la gente chiedeva su cosa stai facendo il PhD perché tutti stavano facendo il PhD all'epoca doveva dire faccio un PhD su Gramsci che è un teorico marxista italiano eccetera perché la gente non sapeva chi era chi era chi era Gramsci verso il 75 76 non aveva più bisogno di dire questo diceva faccio un PhD su Gramsci come interessante eccetera eccetera questo coincide con l'avanzata sostanziale del PC di Berlinguer in quegli anni e con l'avanzata dell'eurocomunismo cioè finalmente abbiamo una forza politica che è comunista che è a sinistra del social della socialdemocrazia europea ma che nello stesso tempo non è serva dell'unione sovietica questa era la cosa proprio centrale e importante e poi si aggiunge a questo che quando la gente ha cominciato ad esaminare un po' più da vicino il PC si sono resi conti che lì c'erano intellettuali lì c'era anche Bologna Emilia Rossa e tutte tutte queste queste cose qui cioè era un partito interessante perché era comunista ma diverso dai partiti comunisti e questo non poteva che aumentare il suo cachet diciamo così nella sinistra in Gran Bretagna devo anche aggiungere che perfino in Francia c'era un gruppo all'interno del partito comunista francese che era chiamato l'Isitalia perché erano filo PC non esisteva nel PC un partito filo francese c'erano magari c'erano senz'altro dei stalinisti ma non c'erano quelli che si riferivano in modo particolare alla Francia né c'era all'interno del partito laborista o del piccolo partito comunista britannico dei filo francesi cioè se uno voleva avere l'esempio di un comunismo di un altro paese non al potere quello italiano era quasi di rigore era quasi un passo obbligato io stavo facendo all'epoca il mio PhD proprio su partito comunista italiano ed ero invitato in continuazione dappertutto anche da 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 gruppetti e da sezioni del partito comunista britannico dove spiegavo un po' come erano le cose per il PC e poi dopo quando io finivo c'era poi una lite furibonda all'interno di questa sezione tra quelli che erano filo italiani e gli altri che gli altri chiamavano stalinisti forse ingiustamente ma comunque quello era il divare cioè il PC era diventato una scusa all'interno dei partiti comunisti per poter dire no io sono comunista come quelli lì come quelli italiani perché sono comunisti diversi non mangiano i bambini per prima colazione non hanno le corne non sono finalizzati non sono questo e quello e sicuramente questo come dicevi tu conquista credito e interesse per il partito comunista in quegli anni e anche forse anche tu accennavi a questo l'esperienza delle giunte rosse quella è esso stessa un motivo di interesse uno degli asili vicino a casa mia si ispira al modello emiliano quando l'ho scoperto ero molto appunto incuriosita e stupita di questa cosa che a distanza di così tanti anni chiaramente cioè ti dà un po' l'idea della forza e dell'interesse che comunque c'è stata in passato e ancora nel presente per quel tipo di gestione della cosa pubblica e organizzazione dei servizi pubblici pubblici ma posso farti posso farti una una domanda è troppo intervista lavorare più con conversazione tu sei un'esperta di di lotte operai di proteste eccetera alla fine degli anni sessanta abbiamo due grandi esperienze di lotte il maggio francese e poi l'autunno l'autunno caldo che di queste due che sono diverse ma quasi contemporanee in fondo che ripercussioni hanno altrove ispirano qualcuno o no dice altrove fuori dall'Italia sì fuori fuori dell'Italia beh sicuramente l'autunno caldo ha una visibilità e un impatto c'è un interesse per l'autunno caldo di fuori dell'Italia forse non pari al maggio francese che sicuramente ha più successo nella conquista dell'immaginario collettivo però l'autunno caldo ha questa particolarità rispetto al maggio francese che forse non ne ha la stessa intensità ma dura molto più a lungo e quindi questo chiaramente attrae e richiama l'interesse da parte non solo degli studiosi ma anche diciamo di un'opinione pubblica internazionale di sinistra e quelli sono anche anni difficili ma anche anni d'oro per il sindacato in Italia anni in cui i sindacati come spesso si dice riescono a cavalcare la tigre ovviamente c'è un dibattito stereografico immenso su questo ma è vero che riescono a a recepire a farsi recettivi distanze dal basso e di fatto ottenere risultati anche importanti molto importanti per per i lavoratori italiani nel picco dell'autunno caldo con la firma del contratto dei metallmeccanici i sindacati ottengono la settimana delle 40 ore aumenti salariali dopo qualche anno si otterrà lo statuto dei lavoratori e il diritto d'assemblea i consigli di fabbrica tutto questo comunque richiama l'interesse dall'estero io studio soprattutto i rapporti Gran Bretagna Italia e mi sembra e in quegli anni si seguono tantissimo le lotte nel bene o nel male nel senso che se ne segue spesso con orrore e preoccupazione anche la violenza ma anche se ne seguono e si ammirano i risultati quindi quindi sì indubbiamente quello che è è di nuovo forse un'anomalia italiana ma questo non ne sono sicura lo chiedo anche a te che in quegli anni come sappiamo sono anni in cui crescono decine decine di gruppi di gruppi che sfidano l'egemonia a sinistra dei partiti come il partito comunista e il partito socialista e ovviamente la sinistra radicale c'è ovunque non è solo un fenomeno italiano ma la sensazione che come forza intensità e durata la forza e l'intensità e la durata e la sinistra radicale in Italia siano particolari e anomali che in parte spiegano anche la durata dell'autunno caldo e nonostante questo però il il non il partito comunista continua a crescere nei proprio nei propri consensi per quello che riguarda il proprio voto elettorale perché arriva alla metà degli anni settanta a come quasi a sorpassare la democrazia cristiana come partito di maggioranza relativa quindi in un certo senso forse si potrebbe anche dire che sono è sono è un momento di turbulenza politica e sociale che sicuramente rappresenta una sfida per la sinistra parlamentare ma anche è un momento di diffusa consapevolezza politica in cui diversi segmenti della società penso per esempio alle donne e i giovani prendono coscienze politiche quindi forse poi nel lungo periodo questo avvantaggia anche i partiti della sinistra parlamentare tornando sempre per quello che riguarda gli anni settanta Donald hai fatto riferimento al compromesso storico e questo è scurrente il compromesso storico è un momento in cui il partito comunista cerca il dialogo e la collaborazione con le socialdemocrazie europee quelli sono gli anni di Brandt della Ostpolitik e lo stesso eurocomunismo in realtà teorizza la necessità come di un allargamento dell'alleanza al di fuori del comunismo internazionale quindi gli anni settanta forse sono anni di dialogo e di collaborazione però i rapporti fra i comunisti fra la famiglia comunista e la famiglia socialista in realtà per decenni e per lunghe fasi sono caratterizzati non certo da collaborazione e dialogo ma anzi da reciproca delegittimazione ostilità e diffidenza e ripensando appunto per questo incontro ai rapporti fra comunisti e socialisti nel lungo periodo e soprattutto guardando all'Italia i rapporti fra comunisti e socialisti in Italia dai primi anni sessanta in poi con la nascita mi viene da pensare a una storia di occasioni mancate colpisce l'incapacità di queste due forze partitiche che avrebbero tutto l'interesse di collaborare in direzione di un'agenda riformista di giustizia di riforme per una migliore ridistribuzione delle risorse giustizia sociale l'incapacità di collaborare quindi appunto queste riforme che di fatto quindi si realizzano non sempre quando si realizzano si realizzano un po' a metà e pensando all'Italia e pensando poi anche al di fuori dell'Italia non ti viene da pensare alla relazione la storia delle relazioni di questi due partiti come anche una storia di occasioni mancate di quello che avrebbero potuto fare collaborando insieme che invece non è stato fatto c'è un problema obiettivo una difficoltà obiettiva in tutto in tutto questo per il PC un'alleanza chiamiamola pure così con la democrazia cristiana cioè il compromesso storico era una cosa quasi obbligatoria nel senso che bisognava fare in modo che si potesse entrare al governo nell'unico modo in cui si poteva entrare al governo in Italia e cioè con il partito di maggioranza relativa questo partito avrebbe rassicurato i ceti medi che erano spaventati o meno quelli che erano spaventati dell'idea del comunisti al potere perché la DC avrebbe detto non preoccupatevi ci sono qua io i comunisti li controlliamo e anche per l'estero per poter dire agli americani guardate che questo non vuol dire un rafforzamento dell'unione sovietica questo vuol dire al contrario una perdita di poteri da parte dell'unione sovietica perché il PC si sta spostando di fatti Bellinguer aveva accettato l'appartenenza alla Nato dunque di fatto questo vuol dire che il blocco comunista si stava sfaldando o almeno si stava sfaldando in Italia il problema era naturalmente il partito socialista al quale si diceva in pratica vieni con me a fare l'alleanza con la democrazia cristiana in fondo anche tu sei sei già stato alleato della democrazia cristiana ma se tu accetti è inevitabile che questo partito cioè che il partito socialista italiano diventa un partito quasi inutile perché la democrazia cristiana e i comunisti potrebbero mettersi d'accordo su quasi tutto emarginando così i socialisti e dunque dunque questo è un problema è un problema vero che nessuno è riuscito a risolvere nessuno è riuscito a rassicurare i socialisti sufficientemente perché questi possono dire comunque c'è una fetta di potere altrettanto importante se siamo all'interno del compromesso storico che se invece siamo fuori possiamo e possiamo fare in modo che la DC dipenda da noi e solo da noi non del partito comunista cioè è una cosa non solo di non solo di sbagli tattici ma un problema di strategia generale nella quale la soluzione provoca problemi e la non soluzione ne provoca altri e Berlinguer scelse una delle due soluzioni possibili che era quella appunto di entrare in una specie di patto con la democrazia cristiana dunque la reazione dei socialisti era in un certo senso legittima dal loro punto di vista di partito se non lasciamo che queste due grandi forze politiche si mettono d'accordo noi diventiamo inutili non abbiamo più posizioni possibili ben diversa era la storia dei socialisti in Francia dove vanno al potere per me con l'alleanza con il partito comunista senza un'alleanza con De Gaulle e il loro il loro potere aumenta enormemente e allora possono loro rassicurare i comunisti francesi facendoli entrare al governo anche se non ce n'era bisogno dal punto di vista dell'elettorato ed erano i socialisti che comandavano era Mitran che era presidente della Repubblica sono due fasi diverse naturalmente con il senno di poi possiamo dire sono comunque tutte quante a lungo termine fallite il partito comunista italiano non esiste più la democrazia cristiana non esiste più i gollisti hanno avuto un 6% alle ultime elezioni presidenziali i socialisti sono quasi spariti e c'è la grande crisi odierna del socialismo sta addirittura forse per sparire perfino in Germania cosa che sarebbe sembrata incredibile vent'anni fa cioè l'idea che i verdi potessero sorpassare come i sondaggi lo annunciano il partito socialdemocratico sembra una cosa incredibile ma è proprio è proprio così stiamo entrando in una nuova fase mondiale dove il socialismo europeo sta crollando non lentamente ma velocemente e dobbiamo ricordarci che la tradizione socialista europea nella quale metto anche il pc è puramente europea partiti così non ci sono fuori dall'Europa in grande numero non ci sono nelle Americhe ogni tanto sì c'è Lula e così via ma insomma non è non è non è quella la tradizione della lotta politica politica in America non esistono nello stesso modo in Asia nel Medio Oriente in Africa esistono solo le cosiddette negli ex dominium britannici cioè in Australia e in Nuova Zelanda dunque se prendiamo una visione più generale della storia del socialismo nasce in Europa si sviluppa in Europa arriva a stabilire delle forze e degli esempi notevoli pensiamo al socialismo svedese alla Scandinavia eccetera e poi comincia un declino che è molto molto rapido e nel tuo libro i sintomi morbosi in realtà fai un'analisi molto dettagliata di quelli che sono i fattori e i ragioni della crisi della socialdemocrazia perché non è solo crisi della socialdemocrazia è crisi dei partiti tradizionali stavo dicendo che in Germania l'Espede può magari non essere neanche il secondo partito tedesco non sarà certamente il primo ma la democrazia cristiana in Germania è in crisi come naturalmente ho appena accennato i golisti lo sono in Francia cioè è è la trasformazione di un sistema politico che era basato su un grosso partito di centro-sinistra riformatore è un partito conservatore ma non troppo di centro-destra uno sfaldamento questo sfaldamento non avviene nello stesso modo nei paesi dove c'è un sistema elettorale che praticamente costringe l'inevitabile vittoria di due partiti ma anche lì vediamo delle cose strane cioè personaggi che non fanno parte della tradizione cioè Donald Trump non fa parte della tradizione repubblicana eppure è riuscito a diventare il leader dei repubblicani e a avere 74 milioni di voti da parte degli americani Boris Johnson è un leader un po' speciale molto più speciale della signora Thatcher anche molto meno intelligente ma questo è un'altra è un'altra storia e il Labour Party è in crisi continua o ha un leader di destra che non piace nessuno o un leader di sinistra che non piace nessuno e così via dunque siamo cioè quando quando perché l'ho chiamato il libro sintomi morbosi perché la frase di Gramsci è inevitabile quando c'è il vecchio mondo sta sparendo e quello nuovo non riusciamo a scorgerlo in questo intervallo ci sono dei sintomi morbosi ed è importante sapere che non sappiamo quello che quello che succederà come molti storici che sono intervistati dai 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 media non mi chiedono cosa è successo nel passato che è una delle poche cose su quale posso discutere mi chiedono sempre cosa succederà e io devo naturalmente disilluderli dicendo non ne ho la più palida idea ma neanche voi cioè questo è il fatto non sappiamo cosa succederà chi nel 1990 avrebbe avuto l'audacia di dire che la DC sta per morire il PC sta per morire che la Lega Nord diventerebbe uno dei più grandi partiti che ci sarebbe un partito che non esisteva il Movimento 5 Stelle che forse sparisce tra un paio di anni cioè è tutto in subbullio è tutto in subbullio e sono sicura che questo solleciterà interventi e domande da parte dei presenti fra qualche minuto quando in realtà aprirò la discussione ma prima di questo in realtà mi forse volevo sollecitare perché quello che tu scrivi nei tuoi lavori è che di fatto la crisi della sinistra dell'idea della socialdemocrazia e anche del progetto socialdemocratico inizia ben prima che nel nuovo secolo colpisce quando tu parli degli anni 80 o anche degli anni 90 cioè sono anni in cui i partiti socialdemocratici socialisti sono al potere in larga parte dei paesi europei nonostante questo tu e altri studiosi in realtà descrivano questa anche come una fase che anche essa appartiene un po' a questo momento di crisi della socialdemocrazia sono partiti che sono al governo ma che non riescono a portare avanti politici il test e appunto comincia alla fine degli anni 90 quando credo che nel 97 98 quando sui 15 stati che allora facevano parte dell'Unione Europea 13 hanno governi con socialisti al potere o al potere in coalizione dunque non è mai successo prima non c'è mai stato una forza una forza tale nella storia dell'Europa e lì comincia il declino perché comincia il declino? Beh in parte perché non hanno idee nuove l'idea vincente del socialismo dopo il 45 era quello dello stato sociale riforma veramente importante riforma che Togliatti avrebbe accettato come riforma di struttura cioè riforma che cambiano le cose in modo in modo generalizzato che Gramsci avrebbe detto fa spostare l'egemonia perché anche gli altri quando vanno al potere non possono distruggere lo stato sociale ma dopo questa invenzione non succede quasi più nulla Mitterrand nazionalizza un po' di cose ma subito dopo le denazionalizza i suoi successori ne fanno altrettanto Harold Wilson vuole gestire il mondo dell'economia ma le riforme che fa eccellenti riforme sono riforme liberali sull'aborto l'abolizione della pena di morte la decriminalizzazione dell'omosessualità tutte cose eccellenti ma insomma che sarebbero successi comunque e che non fanno parte necessariamente unicamente della tradizione socialista e socialdemocrafica una delle caratteristiche del problema è che per una forza politica che si è sempre detto internazionalista in realtà sono sempre stati nazionalisti cioè hanno sempre pensato al fatto che se uno prende il potere e come avrebbe detto Lenin se prende la macchina dello Stato poi puoi fare quello che vuole per Lenin questo non era possibile bisognava distruggerla ma lasciamo stare questo che fa parte delle illusioni leniniste dell'epoca e che si prende la macchina dello Stato in un momento in cui lo Stato conta sempre meno perché siamo in un'epoca di globalizzazione accelerata che coincide appunto con l'avanzata negli anni 90 delle forze di sinistra in un momento in cui è francamente quasi impossibile riuscire a proporre una gestione multinazionale dell'economia vediamo i guai con l'Europa in cui dopo tutti questi anni in fondo l'Europa non ha ancora né poteri fiscali né poteri su welfare per non parlare che non ha neanche poteri di politica estera cioè è un'aggregazione molto debole dunque questo è un po' il problema della politica attuale andare al potere non giova molto si va al potere e non si può fare molto di quello che si dice che si può fare bene e su questa nota positiva aprirò aprirò in realtà gli interventi forse prima interventi da parte dei colleghi che sono presenti a questi incontri e poi domande anche dal pubblico che ci segue se capisco bene su Facebook rompo il ghiaccio io posso benissimo se non c'è un ordine che non riesco a trovare tu sei qui vicino io e Donna siamo vicini di casa e quindi potremmo parlarci dalla finestra invece che usare Zoom sì io sono qua a Londra sono un'altra delle persone che ha cominciato a studiare il partito laborista e poi è rimasta a vedere i risultati pessimi di giovedì o comunque diversi e variati sul territorio delle elezioni di giovedì scorso qua in Inghilterra ma non in realtà ho due vorrei fare due domande abbastanza dirette e schiette so che Donald apprezza questo e gli piacciono anche un pochino i giochi quindi una domanda un po' di ordine storico e storiografico più diciamo amica e disciplinare e poi vorrei se uno può dare un breve commento sul rapporto tra cominciamo da questa tra il populismo e il partito comunista è una di quelle una sorta di elefante nella stanza che è sempre quando si parla del partito comunista e dei rapporti con con il suo elettorato e delle trasformazioni o anche alcuni momenti il discorso di Berlinguer una sorta di amore e odio tra un populismo che è la parola che viene utilizzata oggi per dare un pochino qualsiasi tipo di interpretazione ai nuovi fenomeni politici se ha una sorta di link con la storia del partito comunista legato anche a questo se dare qualche riflessione sull'eurocomunismo l'eurocomunismo è una di quelle un'altra delle vicende del partito comunista italiano che è riuscita ad allargarsi non soltanto come mito da copiare ma ha tentato una diciamo una quarta via è stato molto breve considerato un fallimento ma che forse ha qualche non so come pensi io penso che abbia lasciato qualche radice anche all'interno delle socialdemocrazie europee è un po' alla base ci sono nuovi studi che raccontano le nuove sinistre degli ultimi dieci anni non legate ai partiti tradizionali come un'evoluzione dell'eurocomunismo del progetto dell'eurocomunismo e infine il mio scherzo gioco se avessi la macchina del tempo dovessi tornare indietro e cambiare qualcosa del partito comunista perché per rimanere quel partito che era così strutturato che da un certo punto di vista è un po' una nostalgia di quasi tutti c'è questa nostalgia del partito strutturato comunista del rapporto con gli intellettuali se dovessi tornare indietro e fermare l'errore più grande del PC che ha fatto nella sua storia dove andresti con la macchina del tempo e cosa cambieresti posso cominciare con con l'ultima cioè il la questione del what if cioè cosa sarebbe successo per dire subito che non ne ho la più palida idea nel senso che se devo tornare indietro tutte le volte per esempio dico perché il PC di Togliatti non ha condannato l'invasione sovietica o la repressione sovietica dell'Ungheria nel 1956 bisognerebbe anche allora fare tutta una serie di discussioni su cosa sarebbe successo all'interno del PC se questo se Togliatti avesse preso questa decisione quanti sarebbero usciti cosa sarebbe successo il partito sarebbe spaccato non lo possiamo sapere lui probabilmente pensava che due cose che il partito sarebbe spaccato e che comunque bisognava reprimere penso pensava bisognava reprimere la cosiddetta rivoluzione ungherese perché l'Ungheria non sarebbe diventata una repubblica di sinistra liberale eccetera sarebbe diventata come lo è adesso tra l'altro uno stato di destra dunque è quasi impossibile fare questo tipo di ragionamento anche se è divertente e lo faccio fare ai miei studenti quando davo loro un esercizio che diceva siamo nel marzo del 1917 Lenin sta giocando a biliardo a Zurigo entra qualcuno che gli dice scoppiata la rivoluzione lo zara abdicato devi tornare subito in Germania c'è un treno che ti aspetta che traverserà la Germania eccitato Lenin esce dal bar e viene steso morto dall'autobus numero 37 di Zurigo spiegatemi cosa succede dopo non lo sappiamo qualcuno ci sarebbe forse sì forse no però per rispondere bisogna capire esattamente quali erano le forze in gioco nel marzo nell'aprile nel maggio i soviet all'interno del partito i cadetti cosa avrebbero fatto non avrebbero fatto eccetera eccetera cioè diventa una cosa un esercizio utile per capire la rivoluzione russa ma completamente inutile per cercare di fare una cosa una cosa seria passiamo alla prima il populismo ma anche l'eurocomunismo noi storici siamo purtroppo costretti ad operare spesso categorie che non abbiamo inventato ma che hanno inventato i giornalisti come quelle del populismo che è diventata una parola una parola educata per non chiamare qualcuno fascista cioè per dire che questo è molto di destra ma comunque per carità non è non è veramente fascista sì ci sono anche i populisti di sinistra Sirisa o Podemos in Spagna ma sostanzialmente non è una cosa definibile perché se per il populismo si parla di un appeal al popolo beh c'erano i populisti americani chiamati populist alla fine dell'ottocento che era un partito sostanzialmente della campagna contro i grandi monopoli contro le banche eccetera essere contro i grandi cioè le grandi imprese eccetera fa un po' parte di tutti i partiti delle democrazie la democrazia cristiana era populista non era un partito filocapitalista faceva una politica filocapitalista ma la sua ideologia era la famiglia la patria il papa i preti la chiesa l'ordine la tradizione insomma tutte cose che che inevitabilmente erano populiste tra virgolette e e lo stesso faceva il pc il pc diceva non solo operai ma operai eccetera i medi il famoso discorso di Togliatti Emilia Rossa eccetera eccetera i medi era una specie di appeal molto più generale in Inghilterra non si parla di the workers si dice the working people working people siamo un po' quasi tutti working people cioè i lavoratori quelli che lavorano ma questo è il 90% della popolazione adulta dunque il populismo è un'espressione che si capisco che è inevitabile che serve nella vita di tutti i giorni come democrazia o come come quell'altro ma che non è definibile eurocomunismo anche questa è inventata da un intelligente giornalista che ha subito dato un'espressione generale a cosa al fatto che tre partiti comunisti importanti dell'Europa occidentale cioè quello spagnolo francese e quello italiano si distaccavano in qualche modo dall'Unione Sovietica e questo era l'eurocomunismo però non c'è oltre a questo non voleva dire quasi nulla e dunque dipendeva da quanto credibile era questo distacco dall'Unione Sovietica e dunque la storia dell'eurocomunismo è un po' la storia di una di una di una parola più che di un movimento i movimenti sono sono sempre più David un follower di David Hume cioè la difficoltà di di dare delle definizioni molto forti su cose che dobbiamo adoperare nel linguaggio di tutti i giorni ma che in realtà non abbiamo una un cioè provate a definire cristianesimo in modo che ci stiano dentro tutti provate a definire femminismo in modo che tutte le donne si ritrovino dentro no ci sono varie tipi di di cristianesimo varie tipi di femminismo varie tipi di comunismo varie tipi di socialismo e alla fine non serve molto io quando ho finito il mio libro cent'anni di di socialismo ero perseguitato da gente che diceva define socialism non lo so sono io faccio la storia dei partiti che si chiamano così poi non voglio fare da giuria e dire il socialismo è questo e dunque tu sei socialista tu no tu invece vai all'inferno eccetera eccetera lascio fare questo ai preti donald marcello flores ha chiesto di intervenire e poi quando dopo la domanda di marcello ti leggo una domanda da parte del pubblico marcello salve donald io penso di aver imparato anche dai tuoi libri anche se ora banalizzo molto che il fallimento del socialismo è stato duplice da una parte il fallimento del comunismo cioè della incapacità di riuscire a creare una vera alternativa al capitalismo di costruire un'alternativa al capitalismo quello che verrà chiamato il socialismo reale molto peggio del capitalismo dall'altra quello socialdemocratico perché in realtà non riesce a riformare profondamente stabilmente il capitalismo e entrambi i fallimenti delle due grandi anime del socialismo quella comunista e quella socialdemocratica avvengono poi sempre a livello nazionale come ricordavi tu poco fa e quindi l'impossibilità invece di contrastare un sistema quello capitalista che funziona a tappe internazionali di cambiamento come la globalizzazione ci ha insegnato per quello che riguarda il partito comunista italiano che nella seconda metà degli anni 70 come ricordava anche Laria raggiunge il suo massimo del consenso delle possibilità forse però aveva ragione Cafagna quando parlava della strategia dell'obesità cioè crescere 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 ma poi non si sa per farne cosa perché il risultato di Berlinguer a metà degli anni 70 è stata quella di una alleanza ultra subalterna con la democrazia cristiana e tu ricordavi il perché e le difficoltà o la non volontà di allearsi con i socialisti da questo punto di vista quindi in qualche modo è una un fallimento inserito nella storia perché c'è questa incapacità davvero di muoversi da parte del movimento operaio delle classi popolari a livello internazionale contro un sistema che procede solo internazionalmente o invece c'è qualche altro motivo io alla domanda che ti ha fatto Marzia prima risponderei l'errore più grande è stata quella del 21 ovviamente rispondo oppure c'era una domanda ci sono due domande dal pubblico e poi una domanda una richiesta di intervento da parte di Stefano Agnoletto vuoi rispondere prima Marcello e poi raccogliamo queste tre domande insieme sì allora rispondo molto brevemente sono cose talmente complesse il falimento del comunismo nel senso sovietico cioè di costruire una società alternativa al capitalismo è ovvio ormai non solo perché il comunismo è finito in Unione Sovietica ma perché quello che non è finito e cioè quello in Cina ha fatto delle riforme interne di modo tale che è irriconoscibile come partito comunista come stato comunista cioè è riuscito a fare in modo di trasformare non completamente ma gradualmente l'economia cinese in un'economia mista dove c'è lo stato ma c'è anche l'imprenditorialità e questo è parte del successo assolutamente straordinario degli ultimi vent'anni della crescita dell'economia dell'economia cinese dunque fallimento del comunismo reale nelle sue due forme l'altra cosa è quando tu parli del fallimento della socialdemocrazia ma la socialdemocrazia era riuscita a imporre delle riforme al capitalismo e cioè a fare in modo che c'erano elementi che venivano estratti dall'economia di mercato come per esempio quello dell'educazione come per esempio quello soprattutto della salute che non fa che non fa parte dell'economia di mercato e queste sono riforme importanti non distruggono il capitalismo certo ma lo riformano lo cambiano quanto a lungo non lo sappiamo come si reagirà e poi ricordiamoci di una cosa noi continuiamo è un po' come la mia polemica con il populismo a parlare di capitalismo come se ci fosse il o un capitalismo quando in realtà il capitalismo è un sistema complicatissimo dove ci sono varie forze al suo interno e che sono in lotta costante contro di loro cioè la forza del capitalismo è appunto quello di essere di una dinamicità assolutamente straordinaria dove continua ad andare avanti tra crisi crisi anzi bisogno delle crisi per distruggere quei pezzi di capitalismo che non che non funzionano più ed è globale ma non solo globale è anche interno e dunque difficilmente gestibile in qualche modo e dunque la crisi della social democrazia attuale è sì dovuta in parte al alla alla caratteristica diciamo del capitalismo internazionale ma è una crisi che è anche dovuta alla sua incapacità di proporre delle delle riforme in muove passo all'ultima cosa quello dell'alleanza con la DC e Bellinguer negli anni negli anni settanta lo sbaglio più importante del partito comunista all'epoca è che non si capiva che cosa avrebbe fatto il compromesso storico cioè che politica non c'è mai stato un momento in cui il PC aveva deciso di trattare con la DC su una serie di riforme su una serie di piani sul cosa fare dove lì ci sarebbe forse stato un interesse da parte di una parte almeno della popolazione questo non è stato fatto perché si sapeva che la DC avrebbe accettato alcune cose e non altre eccetera e dunque Bellinguer voleva accelerare i tempi dunque ci sono delle giustificazioni da dare alla decisione di non avere un programma ma col senno di poi possiamo dire che questo è stato un errore che è costato molto Grazie Donald ti leggo i due interventi dalla chat e poi permettiamo anche a Stefano Agnoletto di aggiungere la domanda quindi armati di penna io riesco a leggere una domanda ti leggo la prima domanda in Italia qualsiasi discorso sulla costruzione di un'unità a sinistra e sull'idea del compromesso storico deve passare attraverso un giudizio storico definitivo tra parentesi ancora non c'è purtroppo sul psidi craxi e della sciagurata svolta del Midas del 1976 tutti i fallimenti dell'unità a sinistra sono imputabili alla trasformazione genetica del psi in un notabilato affaristico e di potere che ha portato a tangentopoli oggi ancora c'è qualcuno che vuole santificare il craxismo qual è la sua opinione sul personaggio e su quella linea politica brevemente poi c'è una domanda scusa va benissimo così brevemente le colpe le colpe del psi di craxi sono 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 molte mi stupisce che davvero c'è gente che voglia santificare craxi non credo che sono moltissimi ci sono abbastanza santi in Italia è inutile aggiungere craxi a questa lunghissima lista ma forse dobbiamo cercare da buon storici di metterci dalla parte dei socialisti e cioè di vedere il mondo e il problema dal loro punto di vista e come ho detto prima il compromesso storico non portava loro alcun vantaggio e questo è un altro degli errori del del pc se volevano davvero fare un compromesso storico con tre forze e non solo con due bisognava mettersi d'accordo con i socialisti su un programma da imporre alla democrazia cristiana e poi se Craxi non avesse accettato perché era preferibile continuare a fare il suo clientelismo eccetera vabbè però non si era non si è neppure tentato di fare di fare questo passiamo all'altra domanda qual è la vera ragione a vostro modo di vedere del mancato successo decollo del social liberismo o liberal socialismo che dirsi voglia all'interno del mondo socialista in genere non poteva ritenersi tale filosofia la giusta sintesi anche a favore delle masse in termini di diritti sociali e politici Stefano vuoi aggiungere la tua domanda perché sono abbastanza un po' preoccupata sul tempo vuoi aggiungere la tua domanda e e magari spiegare un po' il social liberismo che cos'è beh penso che la domanda si riferisca alla tradizione di Rosselli e di Gobetti perché non hanno avuto appunto il mancato successo all'interno della tradizione socialista Stefano vuoi intanto aggiungere la tua domanda? dolo al volo una domanda da storico ma allora è provocatoria ma per capirci ma possiamo dire allora che una prospettiva di storia globale la storia del socialismo europeo in tutte le sue varianti in realtà è una storia molto più marginale di quella che noi europei ci raccontiamo cioè se il marxismo in tutte le sue varianti ha avuto un ruolo d'attore principale in una prospettiva di storia globale forse il socialismo europeo noi l'abbiamo sempre sopravvalutato collegato a questo quando tu dicevi che alla fine degli anni 90 13 governi su 15 europei erano socialisti forse quello sarebbe stato un momento in cui il socialismo europeo poteva diventare protagonista con idea nuova visto che governava un'Europa che ancora economicamente aveva un ruolo da protagonista e lì c'è una grave responsabilità invece forse non averlo fatto chiudo domande difficili la la il il socialismo liberale il liberal socialismo in realtà ha fatto parte della sinistra europea e per quello che le iniziative tipo Gobetti eccetera non hanno decollato nel senso che non hanno fatto un loro partito però hanno sono diventati parte del mondo del socialismo europeo se noi pensiamo alle grandi riforme liberali non nel senso economico ma diciamo così sociali sono state quasi tutte fatte da partiti di sinistra o con l'appoggio determinante di partiti di sinistra dunque ha avuto un successo e un decollo ma una volta che sono state fatte queste cosa si aggiunge cioè dove 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 si va il prossimo il prossimo target è naturalmente l'ecologia che non c'entra con il liberal socialismo ma anche lì ci sono gravissime difficoltà perché uno dei modi per ridurre il per ridurre il global warming è quello di diminuire il consumo ora diminuire il consumo è la grande chiave di legittimazione del capitalismo paradossalmente l'ecologismo è una mentalità anticapitalista che vuol dire dobbiamo diminuire in qualche modo i nostri i nostri consumi ma tutta la storia del capitalismo è quella di un aumento continuo non voglio stare qui a citare l'inizio del capitale di Marx ma insomma lo dice nella prima frase e dunque questa è una difficoltà obiettiva e non so come si fa per risolvere per fortuna non faccio il politico faccio solo semplicemente lo storico quando la seconda parte della domanda di Agnoletto su il fatto che i tredici su quindici partiti alla fine degli anni novanta hanno perso un'occasione certo hanno perso un'occasione ma per cogliere quest'occasione avrebbero dovuto diventare completamente filoeuropei e cominciare a parlare a costruire una nazione europea con un sistema fiscale unico con una moneta unica ricordiamoci quanto è stato difficile perfino avere la moneta unica avere un intervento dal centro ma quale centro Bruxelles quei quattro burocrati detestati da quasi tutti un parlamento europeo che la gente non sente rappresentativo come il loro parlamento cioè il fatto è che non si è mai riuscito a costruire uno stato se non dall'alto con la forza la costruzione dell'Italia è stata fatta dal centro che ha imposto un esercito un sistema fiscale un sistema educativo un sistema burocrafico lo stesso si è fatto in Francia in Gran Bretagna in Germania poi la democrazia è arrivata si è allargato il suffraggio in Europa invece si procede all'incontrario si procede con stati che vogliono difendere i propri privilegi dunque le difficoltà dei socialisti alla fine degli anni 90 erano difficoltà obiettive difficili da risolvere è sempre facile dire avresti dovuto fare questo ma la domanda che bisogna chiedersi è perché non l'avete fatto e quali sono i motivi pensate mettetevi nei panni di qualcuno che si presenta come candidato alle elezioni in Germania per Stuttgart o Francoforte e va in giro dicendo votate per me se votate per me farò in modo di spostare i poteri da Berlino a Bruxelles in modo da aiutare gli spagnoli i siciliani i greci eccetera e pensate che questo possa vincere le elezioni quando è difficile perfino in Italia convincere i lombardi a pagare le tasse per aiutare i meridionali cioè avere questo in un paese che è in uno stato vero come 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 è l'Italia fare questo a livello europeo richiede una trasformazione assolutamente incredibile trasformazione che tra l'altro è in grave pericolo perché tra il Brexit e le difficoltà perfino nel vaccinare l'Europa è chiaro che l'Unione Europea non funziona bene e su quest'altra allegria come si diceva una volta qualche altra nota di ottimismo forse beh innanzitutto Donald ti ringrazio ringrazio i colleghi che hanno presenziato e partecipato all'incontro ringrazio ancora ISEC la Casa della Cultura per aver partecipato per aver organizzato questa questa conversazione ripasso la parola a a Giorgio Bigatti per la chiusura dell'evento io ringrazio io volevo dire io non so naturalmente voi non voglio obbligare nessuno a rimanere ma se ci abbiamo dieci minuti ancora non credo che sia un problema per nessuno dal punto di vista dell'organizzazione però magari invece è un problema per voi che dovete andare a fare degli altri impegni quindi se se c'è una domanda al volo per farla forse possiamo accettarla se voi avete cinque minuti no no certo io ce li ho no ma non so Donald adesso no se sei dieci minuti ok se dieci ore no 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 questo anche per me se ci sono domande telegrafiche semplici semplici domande semplici sono le peggiori quindi un minuto di silenzio per dar tempo se c'è una domanda altrimenti faccio un saluto conclusivo Donald posso allora approfittare per visto che vedo che non ci sono domande o finché i colleghi eventualmente riflettono una delle domande che mi ero preparata per la nostra conversazione questa sera che poi non siamo riusciti ad affrontare nella prima parte dell'incontro è una domanda su comunismo socialdemocrazia e parità di genere e donne sicuramente tu ne hai scritto molto e sicuramente occupandomi di facendo storia del lavoro e ci si rende conto come negli anni sessanta settanta ancora negli anni ottanta l'enorme conservatorismo non solo da parte dei lavoratori degli operai ma anche dei quadri di partito quadri sindacali e e l'incapacità di muoversi con la velocità necessaria appunto anche quello forse una miopia politica del capire che che il mondo stava andando in quella direzione quindi volevo come sollecitarti sollecitare un tuo intervento su questo e anche eventualmente se ci sono dei partiti all'interno della famiglia socialdemocratica che sono riusciti a muoversi con più agilità e prontezza su questi temi appunto la parità di genere i diritti delle donne o altri importanti diritti civili come i diritti relativi all'omosessualità per esempio sulla parità di genere già nel 1889 la seconda internazionale fu una delle prime organizzazioni politiche che si disse d'accordo con l'idea che il suffragio diventi veramente universale non solo maschile cioè c'era comunque già all'epoca un tentativo di andare incontro all'idea della parità di genere poi naturalmente questo rimase nei nei programmi di buona volontà nella pratica non si è non si è fatto non si è fatto molto e al tempo delle suffragette in Inghilterra il Labour Party che era che era nato nel 1901 non aveva fatto molto molti di sinistra erano a favore naturalmente ma tra le prime suffragette c'erano anche delle donne conservatrici cioè non era un movimento che era necessariamente di sinistra quando poi il femminismo second wave rinasce negli anni 60 e soprattutto negli anni 70 le difficoltà rimangono comunque obiettivamente forti io vorrei fare l'esempio della diversità di opinioni all'interno del partito comunista e della democrazia cristiana nel 45 dove bisognava decidere se dare il voto alle donne o no come voi sapete l'Italia col Belgio e la Francia furono tra gli ultimi stati europei dove il voto fu dato alle donne tutti e tre paesi cattolici uno la Francia che si è sempre vantata di essere all'avanguardia quando si parla di diritti a Togliatti che aveva spiegato che il PC doveva essere a favore dell'allargamento dei voti del voto alle donne alcuni all'interno del partito li obiettavano che ma le donne avrebbero votato come dicono i preti e cioè avrebbero votato per la democrazia cristiana all'interno della democrazia cristiana lo stesso tipo di dibattito ma inverso era che dobbiamo dare il voto alle donne perché voteranno per noi dicevano alcuni e altri dicevano ma non possiamo dare il voto alle donne perché dovrebbe essere il capo famiglia a decidere alla democrazia cristiana dunque per motivi ideologici c'era c'erano delle perplessità nel dare il voto alle donne all'interno del partito comunista c'erano delle perplessità dal punto di vista pratico politico cioè che il voto che non avrebbero votato per noi quando si parla di cambiamenti di questo tipo è sempre importante esaminare quali sono le conseguenze immediate e non quelle a lungo a lungo a lungo termine della cosa il movimento socialista era un movimento maschile perché era un movimento operaio e la stragrande maggioranza degli operai erano uomini e dunque è ovvio che per un lungo periodo di tempo questo movimento sarebbe rimasto maschilista poi per fortuna è dovuto è dovuto cambiare ma è cambiato per interventi da fuori interventi di donne anche naturalmente con donne comuniste donne socialiste e così via dunque questo è un po' cioè quando critichiamo i partiti è sempre una buona idea di mettersi nel loro panni al momento in cui prendono una certa decisione e vedere com'è che vedono il mondo in quel momento e quali giustificazioni ci sono per vedere il mondo in quel modo e qual è il dibattito grazie altre domande dai colleghi o dal pubblico se non ci sono come dire abbiamo risolto tutti i problemi del socialismo e del comunismo e del comunismo fantastico no allora se come vedo appunto per varie ragioni molto è stato detto molto è stato toccato molti problemi richiederebbe un tempo che non abbiamo più forse da qui in silenzio o richiedono anche un'elaborazione una meditazione per riprenderli possiamo avviarci a concludere questo incontro ovviamente non si può pensare di fare una sintesi io credo però che in questo modo così freddo e per tanti versi fastidioso di questo incontro mediato dal video però ha un vantaggio che è la registrazione io penso che il fatto di conservare un incontro come questo e di metterlo a disposizione quindi di poterlo condividere ulteriormente sia un elemento importante di cui ringrazio intanto i due autori quelli che hanno partecipato con le loro domande hanno stimolato anche una risposta che ha toccato tanti temi importanti temi che come fondazione come casa della cultura costituiscono da tempo un oggetto di riflessione di iniziative cercando di collegarla a quello che è il nostro patrimonio poi devo dire che credo che siano state importanti anche alcune indicazioni che senza esplicitarlo ma sono di fatto di metodo storiografico che Donald Sassin ci ha dato questo invito costantemente a metterci in qualche misura dentro il contesto dal punto di vista del momento dei partiti quando affrontiamo queste questioni penso che sia una questione che effettivamente vada tenuta presente che si possa aiutare a capire a inquadrare a contestualizzare sempre meglio detto questo sperando di ripetere un incontro di questo tipo che non è solo interessante per le cose che sono state dette ma anche perché dà la sensazione di quella che faticosamente si stia costruendo attorno a ISEC alla Casa della Cultura al rapporto con Fondazione Gramsci che era Francesco Gazzi che ci ha seguito con la rete Mirko Carottieri insomma con molti degli storici presenti e con gli insegnanti che ci seguono una piccola comunità che senza grandi pretese senza grandi dichiarazioni costruisce lavora porta avanti un impegno che è un impegno di studio ma è anche in fondo un impegno civile che cerchiamo di portare avanti in un mondo che è per noi particolarmente complicato e difficile nel nostro piccolo se guardiamo poi le difficoltà e all'ottimismo che ci è arrivato su certi grandi scenari questo non ci conforta ma ci spinge come dire ad andare avanti quindi io qui chiuderei ringraziando davvero di cuore Donald Sassumi Laria Pavretto e non dimentico Stefano Agnoletto che è stato in qualche modo l'elemento di connessione perché senza Stefano Agnoletto probabilmente tutto questo non si sarebbe potuto fare quindi ringrazio tutti e spero a una prossima occasione ricordo ad alcuni dei presenti noi venerdì scorso abbiamo avuto un convegno sul PC l'Europa quindi alcuni dei temi di cui si è parlato si intrecciavano con quelle recente esperienze giovedì 13 presenteremo il libro di Floreste sul genocidio e tra gli ospiti interessante il fatto che ci sarà un giurista che lavora a uno dei tribunali dell'AIA non parlerà del proprio lavoro per ragioni comprensibili ma evidentemente il tema di genocidio è un tema che affronta da un punto di vista giuridico che è complementare a quello dello storico grazie a tutti buona serata spero a presto grazie ciao